Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti. La cronaca e la politica della tua città. Noleggi e attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegni e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro, a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Buongiorno e benvenuti a ETG Bologna. Il giorno dopo le elezioni regionali, che hanno visto pur con una bassa affluenza alle urne, un trionfonetto del centro-sinistra e di Michele De Pascale. Per lui quasi il 57% dei voti contro il 40% di Elena Ugolini, sostenuta dal centro-destra. Il vincitore De Pascale appunto annuncia oggi e assicura che si occuperà molto di sanità, non specificando se terrà per sé o meno la delega. Quanto alla prossima giunta, l'unico certo è Vincenzo Colla. De Pascale ha parlato poco fa nella sede della Regione Emilia-Romagna. C'era per noi Giuseppe Pilloni. Ecco, De Pascale non ha voluto parlare di giunta, ha detto solo che Concolla continuerà a collaborare. Potrebbe essere in giunta? Credo che si sia capito. Abbiamo avuto i risultati delle elezioni ieri. Questa mattina ovviamente ci sono stati chiamati a commentarli. Li stiamo ancora anche guardando. E' un grande attestato di stima. Non penso di impiegare molto tempo a definire la squadra, però ci vorranno 10 giorni per la proclamazione. Altri 15-20 per l'insediamento dell'Assemblea. Sono tempi assolutamente congrui per poter partire. Quindi Colla sarà in giunta? Vincenzo Colla è stato il coordinatore del mio programma. Era uno dei nomi più credibili e più autorevoli anche per la corsa presidente, quindi sicuramente farà parte della mia squadra. Gli altri suoi criteri non ha detto nulla? Territori, parità di genere? Sono tutti criteri giusti. L'Armiglia Romagna è una regione composita. Per noi la parità di genere, l'equilibrio di genere è un elemento fondamentale. Le competenze, anche gli aspetti di consenso democratici. Però, ripeto, sono passate meno di 24 ore. Non vi farò aspettare tanto, ma non 24 ore. Si occuperà molto di sanità, ha detto? Assolutamente. Oltre al tema del contrasto al dissesto idrogeologico, la difesa della salute pubblica è la cifra identitaria di questa istituzione. L'Emilia Romagna esiste per difendere la sanità pubblica in Italia e quindi ci batteremo con tutte le nostre forze. Apriremo anche un grande cantiere. Guardando anche i risultati nelle varie province, si vede che anche tanti operatori e operatrici sanitarie ci hanno dato fiducia. Questo per me è un fatto commovente, nel senso perché hanno vissuto anni difficilissimi, ma si sono fidati di noi. E ora di questa fiducia dobbiamo farne assolutamente un grande onore. Però non ha ancora deciso se tenere la delega o no? Non ha ancora deciso se tenersi la delega? Quando comunicheremo la Giunta vedrete anche tutte le deleghe. C'è un risultato di qualche consigliere comunale, di qualche candidato che l'ha sorpresa, che è andato particolarmente bene? No, devo dire che hanno fatto tutti un ottimo lavoro, qualcuno ha ottenuto tantissimi voti, qualcuno ne ha ottenuti di meno, ma ciascuno ha dato un grande contributo e l'Emilia Romagna ha bisogno di tutti. Devo dire anche di complimentarmi, anche con chi è stato eletto nel campo del centrodestra, con gli altri candidati alla presidenza della regione. Chi si impegna, chi ci mette la faccia, il giorno dopo le elezioni va sempre ringraziato, a prescindere dai voti che ha raccolto. Senta, stanotte ha dormito? Sì, sì, assolutamente. Sono altre le cose che tolgono il sonno. E per quanto riguarda il voto di ieri, andiamo a fare un'analisi perché il Partito Democratico torna a rafforzarsi sia a Bologna che in Emilia Romagna. E' anche questo l'esito di queste regionali che confermano Fratelli d'Italia come primo partito del centrodestra, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle e la Lega. Maria Elena Mele. Un PD tirato a lucido quello che esce dalle regionali. In Emilia Romagna e in particolare a Bologna il Partito Democratico viaggia a gonfie vele. E a dirlo sono i numeri, le percentuali che non si vedevano da tempo. Esattamente dal 2014, prima investitura di Stefano Bonancini. 60,85 la percentuale a livello regionale, 44,64 nella circoscrizione di Bologna. E' il risultato ottenuto da Michele De Pascale. Dieci anni fa l'ex governatore prese 51,76%, il PD 45,29. Il mese di entrambe le tornate elettorali e novembre evidentemente fortunato per il Partito Democratico. Nel 2020 invece il PD a Bologna si fermò al 39,31%. In questo caso però si votò a gennaio. Queste ultime elezioni riposizionano all'interno della coalizione del centro-sinistra la lista Alleanza Verdi e Sinistra Coalizioni Civiche Possibile che cresce rispetto al 2020 con il nome Emilia Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista di quasi 7 punti percentuali, 6,91 precisamente. Altro dato interessante è quello del Movimento 5 Stelle che strappa un seggio ma la ferita emorangica è sempre più aperta. 13.202 per il 3,49% i voti ottenuti all'interno della coalizione di De Pascale. La fotografia che propone il centro-destra è crescita di Fratelli d'Italia a discapito della Lega. In quattro anni il partito di Matteo Salvini a Bologna ha perso più di 20 punti percentuali tanto che non riesce ad ottenere neanche un seggio. Persino la lista della candidata Elena Ogolini con il 7,02% ha preso più dei leghisti. Il bottino lo fanno i melognani che passano da 8,40% nel 2020 a 20,10% con due persone in assemblea legislativa. Cresce anche Forza Italia che ottiene il 4,35% rispetto al 2,46% del 2020. Dieci anni fa la Lega candidò a Lanfabri e ottenne il 15,19%, Forza Italia l'8,52%, neanche il 2% per Fratelli d'Italia. Esattamente uno scenario opposto rispetto alle ultime elezioni del novembre 2024. Ma chi sono i candidati che hanno ottenuto più preferenze per entrare in Consiglio Comunale per quanto riguarda la circoscrizione di Bologna? Ce lo dice Alessia Salvatori. La corsa per il Consiglio regionale nella circoscrizione di Bologna registra un trionfo di preferenze per molte candidate, a cominciare da Isabella Conti, la più votata di questa intera tornata elettorale, che all'interno dei DEM ha staccato la collega di partito Irene Priolo. Poi ci sono Marte Evangelisti di Fratelli d'Italia, Valentina Castaldini, capolista di Forza Italia, e Simona Larghetti, la più votata di Alleanza Verdi Sinistra. Andando per ordine, il Partito Democratico De Pascale Presidente vede eletti oltre a Isabella Conti e Irene Priolo anche Raffaele Donini, Maurizio Fabri e Fabrizio Castellari. Simona Larghetti passa con Alleanza Verdi e Sinistra, coalizioni civiche possibile, un seggio anche per civici De Pascale Presidente con Giovanni Gordini e per il Movimento 5 Stelle con Lorenzo Casadei. Questo salvo ulteriori ripescaggi. Nessun seggio invece per Riformisti e Miglia Romagna Futura. Per l'opposizione Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, vede il maggior numero di preferenze per Marte Evangelisti e Francesco Sassone, Marco Mastacchi per Rete Civica, Elena Ugolini Presidente, infine Valentina Castaldini per Forza Italia, Berlusconi, Ugolini Presidente e noi moderati. Non passa la Lega, lo stesso dicasi per Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro, che sosteneva il candidato Federico Serra. Stessa sorte per lealtà, coerenza, verità, a sostegno del candidato Luca Teodori. Adesso andiamo a vedere invece in modo più specifico come è andato il voto nella città di Bologna, in particolare quartiere per quartiere, nessuna sorpresa o cambio di scenario. Confermate le storiche roccaforti sia della sinistra che, per quanto minoritarie, della destra. Con Simona Iannessa. Il Partito Democratico vince e stravince, confermandosi la storica roccaforte della sinistra sotto le due torri. Primeggia a mani basse in tutti i quartieri, tranne uno, i colli, dove la lista capeggiata da Elena Ugolini raggiunge il 50,36%, mentre quella di Michele De Pascale si ferma al 47,43%. Una soddisfazione per la candidata del centrodestra, che si prende una rivincita raggiungendo quasi il 14% con la sua rete civica, che è andata comunque piuttosto bene sia al quartiere Santo Stefano, dove è arrivata al 9%, sia nel quartiere Porta Saragozza, dove ha sfiorato l'otto. Negli altri quartieri di Bologna, invece, la rete civica si è attestata tra il 5% e il 7%. I colli hanno poi dato molta soddisfazione, come previsto, al partito di Fratelli d'Italia, che conquista quasi il 26%, guadagnando il podio rispetto agli altri partiti nel quartiere. Il neopresidente della regione, Michele De Pascale, trionfa come prevedibile in Bolognina, dove prende la fetta più alta di voti con il 66,61%, al quartiere Borgo Panigale, dove arriva il 65,32% e al Navile, dove porta a casa comunque un buon 66,46%. Allineati i quartieri Savena e San Donato San Vitale, nel primo De Pascale prende il 64,54%, mentre nel secondo il 64,65%. In entrambi i quartieri il PD va molto forte, superando abbondantemente il 40% di preferenze. La Lega conferma i bassi risultati delle europee, con percentuali pari o poco più alte del 3% in tutti i quartieri di Bologna. Forza Italia oscilla invece tra il 3 e il 4%, con picchi prevedibilmente più alti del 6,7% nelle zone Colli, Marconi e Santo Stefano. In definitiva, per quanto riguarda i quartieri di Bologna, nessun cambio di scenario importante. Siamo alla cronaca, la polizia ha individuato in Romania l'ex compagno di Chiara Balistrieri, la giovane bolognese che sui social aveva denunciato le violenze subite dall'ex fidanzato. L'aggressore era evaso dai domiciliari il 4 novembre. Sara Ferrari Il mio ex mi ha spaccato il naso facendomi finire in ospedale. Dopo 5 anni di torture fisiche e mentali, dopo 5 anni di botte e violenza domestica, io decido di denunciare. Era stata la stessa Chiara Balistrieri sui social a raccontare il suo passato. Parole, immagini per descrivere le violenze subite dal fidanzato che dopo essere evaso dagli arresti domiciliari è stato arrestato dalla polizia in Romania. Gabriele Constantin aveva fatto perdere le sue tracce il 4 novembre e era stato denunciato per maltrattamenti e lesioni gravi della sua ex fidanzata. La giovane si è sempre esposta pubblicamente, ha voluto prendere la parola, ha detto, anche per non essere l'ennesimo femminicidio. Preferisco dare la mia testimonianza e parlarne ora e raccontare tutto quello che c'è dietro a una donna che denuncia, a uno Stato che non ascolta e che non ci tutela. E preferisco registrarmi da viva prima che diventi l'ennesimo caso di femminicidio. Le indagini della squadra mobile di Bologna sono iniziate due anni fa quando la giovane aveva denunciato per una serie di maltrattamenti il fidanzato dall'inizio della loro relazione nel 2017, quando erano ancora entrambi minorenni. Dopo le indagini, ricostruisce la polizia, il Tribunale di Bologna aveva messo a carico di Gabriele un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari che a causa della sua repentina fuga era rimasta ineseguita fino allo scorso 26 ottobre quando il giovane era stato rintracciato a Bologna. Il 4 novembre però il ragazzo aveva fatto di nuovo perdere le proprie tracce e il giorno dopo il Tribunale ha disposto all'aggravamento della misura con quella della custodia in carcere. In seguito ad accertamenti, la mobile ha appurato che Gabriele Constantin era tornato nel suo paese natale, Romania, ed è stato poi localizzato e arrestato in un villaggio vicino a Craiova. Siamo al basket, sono stati giorni caldi in casa Fortitudo tra dimissioni del Presidente, poi rientrate ed esonero dell'allenatore alla fine torna a sedersi in panchina Attilio Caia oggi pomeriggio la presentazione intanto vediamo i dettagli nel servizio di Sabrina Orlandi. Il ritorno dell'allenatore prodigo solo cinque mesi fa Attilio Caia lasciava la Fortitudo manifestando il suo distacco alla fine di gara 3 per poi salutare definitivamente la compagnia al termine di gara 5 persa con molta rabbia e non poche recriminazioni a Trapani. Un addio tutt'altro che indolore però con colpe rinfacciate da ambo le parti e avvocati messi in mezzo tra società e allenatore. Poi i mesi difficili della Fortitudo che ha scelto come sostituto Davis Cagnardi è arrivato nello scetticismo generale aveva un'eredità difficile e non è riuscito a superare l'esame sette sconfitte in undici partite le ultime quattro consecutive hanno decretato l'esonero del tecnico che fin dall'inizio non è stata la prima scelta. Nei giorni precedenti c'era stata anche una mini crisi societaria con le dimissioni del presidente tedeschi date al termine della sconfitta di Desio arrivata in modo arrendevole. Dimissioni poi rientrate il giorno seguente su pressione dei soci che gli hanno chiesto di rimanere al suo posto. Uno scossone che è stato solo il preludio dell'esonero del coach e anche del mea culpa. Perché il divorzio da Caia sia stato così burrascoso non è ben chiaro. Sta di fatto che da entrambe le parti è stato fatto un gesto di riavvicinamento che è sfociato poi nel rinnovo di contratto. Oggi alle 17.30 ci sarà la presentazione di Caia 2 magari qualcosa in più si saprà di come sono andate le cose. Di sicuro ci sarà anche un ritorno sul mercato perché la squadra ha bisogno di qualche rinforzo e di qualche ritocco e con Caia la fortitudo ha trovato un abile conoscitore della materia. E' arrivato il miglior allenatore possibile fino a ieri in Lizza per sedere sulla panchina di Napoli. Se la squadra e la società staranno al passo la stagione può ancora cambiare completamente volto. E' tutto il nostro telegiornale. Si chiude qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. E-TV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda. www.e-tv.it